Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. È finita a Bergamo, 4-0 per la Dea, ai danni della Sampdoria. Direi A-A-A cercasi Sampd, perché oggi la Sampdoria non si è praticamente mai vista in campo. È stato un dominio assoluto della Dea, che la sblocca con Pasalic e poi raddoppia, e addirittura trova anche poi il terzo gol, con Copp Miners, grandissimo Copp Miners, che mi ha fatto vincere al fattacalcio, che è grandissimo, e poi la chiude con Biranciuk, che era stato l'autore anche dell'assist per il terzo gol della Dea. Che dire, Sampdoria è imbarazzante oggi, a mio avviso non ci ha capito assolutamente una mazza, e la Sampdoria ha questi alti e bassi. L'altro giorno comunque, questa settimana aveva vinto contro l'Empoli, oggi invece è veramente prestazione oscena. E tra l'altro la Sampdoria non può permettersi il lusso di non giocare in questa maniera, perché comunque sia a 26 punti e il Venezia è una partita in meno. In questo momento ha 22 punti, dovesse vincere raggiungerebbe a 25 punti il Cagliari, quindi capite bene che c'è un punto nel caso di margine, quindi la lotta a salvezza si fa veramente tosta. Non può permettersi il lusso appunto di andare a Bergamo e non giocare la partita, oggi l'Atalanta l'ha presa a pallate, secondo me le statistiche, stavo guardando prima giusto le statistiche sul possesso, non rispecchiano quello che può essere visto realmente in campo, l'Atalanta ha fatto girare il pallone molto bene, destra-sinistra, l'Atalanta ha proprio dominato la Sampdoria, invece non è riuscita assolutamente a creare gioco. Vi dico la verità, io ad esempio qua ieri alla fine del primo tempo non l'avrei tolto, secondo me è stato uno dei pochi, almeno nel primo tempo, a cercare di far salire la squadra, a cercare di lottare un po' anche con lo stesso Palomino, io non l'avrei tolto, quaglia. Poi in una partita che, tra virgolette, si mette bene, nel senso nel riscaldamento si fa male Malinoski, quindi tu hai un avversario comunque in meno che Malinoski, comunque se in giornata è un bello rognoso da affrontare, hai contro Pasalic e cosa fai? Prendi gol da Pasalic. Ecco, secondo me non l'ha preparata bene la Dea, cioè scusate la Samp, perché comunque stavi giocando contro una squadra che in questo momento non ha un attaccante di davanti, e prendi quattro pere, vuol dire che c'è qualcosa che sicuramente non va e non ha funzionato, e invece, se la vediamo alla rovescia, l'Atalanta oggi ha fatto un partitone, ripeto, ha dominato in ogni zona del campo, ha fatto già la palla a destra e a sinistra, con Mainers oggi partitone da otto, veramente una gran bella partita. Questa è la dimostrazione, ragazzi, che molto spesso vengono comunque sottovalutati certi campionati, perché poi, eh ma gioca in Olanda, eh, sì, lui non giocava in Olanda, tra l'altro non giocava nemmeno nell'Ajax, per dire che magari la squadra è comunque più prestigiosa d'Olanda, insieme alla PSV Endoven, e si sta inserendo nel nostro campionato, e comunque ogni volta che gioca sta facendo bene, quindi, ecco, bravo, bravo Cup Mainers, oggi a giocare in una posizione comunque non la sua preferita, diciamo, non il suo vero ruolo, e a fare così, così bene. E, per dire, bene Pessina, ma la te ha giocato tutta bene, ragazzi, cioè è inutile che adesso sto a dire i nomi, quelli che secondo me si sono messi più in evidenza sono stati Cup Mainers e Miranchuk, tra l'altro Miranchuk che viene da una settimana difficile, per i motivi che sappiamo tutti di quello che sta succedendo, per quanto sta succedendo in Russia, e quindi entra, fa l'assist, poi fa un gol, è tosta, cioè, posso capire che sia una situazione non facile, e poi per Giunta, per lui che è squadra anche un giocatore ucraino come Malinowski, posso capire che non sia veramente facile, e quindi che abbia passato magari dei giorni un po' tristi, complicati, e quindi mi sento veramente di fare i complimenti principalmente a Cup Mainers e a Miranchuk. Poi, per quanto riguarda la Dea, ragazzi, oggi ha giocato contro un avversario inesistente, quindi io non esalterei troppo la prestazione della Dea, in senso stretto, cioè, oggi ha giocato ad Atalanta, però ha giocato ad Atalanta perché la Sampdoria gliel'ha concesso. Io l'Atalanta così non la vedevo giocare da tempo, ma appunto mi tengo delle riserve, proprio perché la Sampdoria oggi è malissimo, malissimo. Voglio vederla sul lungo periodo, voglio vedere cosa farà la prossima giornata, poi dopo ancora, quindi bene, bene l'Atalanta, ma con riserva, cioè mi tengo la riserva di vedere quello che succederà. La Sampdoria è malissimo, malissimo oggi, ripeto, vedremo cosa farà la Sampdoria, anche perché poi tra due partite giocherà contro la Juventus a Genova, quindi sicuramente contro noi faranno i fenomeni, me lo vedo già, quindi vedremo cosa verrà fuori, però obiettivamente sono deluso. Sono deluso, tra l'altro la Sampdoria è una squadra che mi fa sempre piacere seguire, perché è la mia regione, quindi la seguo sempre con piacere, però oggi proprio inesistenti, proprio a livelli incredibili, veramente imbarazzanti. quindi ragazzi, l'Atalanta non cede il passo alla Juventus, la Sampdoria inizia a rischiare, vedremo cosa verrà fuori nelle prossime giornate, vorrei solo aggiungere una cosa, per quanto riguarda il discorso Russia, ho letto che la FIFA e la UEFA hanno deciso di escludere la Russia, le squadre russe dalle varie competizioni, io personalmente non sono d'accordo, non tanto per motivi, cioè per i vari motivi politici, in cui non voglio addentrarmi, però non vedo quale sia la colpa di, non lo so, adesso faccio un nome a caso, di una squadra del CSKA, di una Lokomotiv, di uno Zenit, di non poter partecipare a una Coppa, perché il Premier di un paese ha deciso di attaccare un altro paese, mi sembra una cosa veramente allucinante, ecco, mi sembra un po' assurdo, mi sembra solo una decisione mediatica, quindi io personalmente non mi trovo d'accordo, anche perché se prendiamo magari una squadra come non so appunto CSKA, magari all'interno di CSKA ci sono vari giocatori che non hanno nulla a che vedere con la Russia e quindi perché loro devono essere puniti e non giocare una competizione che si sono meritati sul campo, non lo so, mi sembra una cosa onestamente ingiusta, ingiusta, quindi al di là, ripeto, dei motivi politici mi sembra una cosa un po' come posso dire, più più diciamo per finto per benismo che per altro, a me il finto per benismo non mi è mai piaciuto, mai mi piacerà e queste cose un po' così di facciata giusto dal punto di vista mediatico mi danno fastidio, quindi ci tenevo a dire anche la mia su questo e lo faccio proprio in questo video giusto perché si parlava di Malinoski che è un giocatore ucraino e di Miranciuk che è un giocatore rosso. Va bene, detto ciò ragazzi noi ci aggiorniamo molto presto, iscrivetevi al canale, condividete il video se volete, diffondete il verbo e vi mando un forte abbraccio. Ciao a tutti, ciao!